Ciao a tutti, io sono Anthony. Ho frequentato il corso di laurea in Scienze Tecniche della Comunicazione all'Università degli Studi dell'Insubria, sia triennale con la dicitura SCOM sia magistrale con la dicitura STEC. Sono qui oggi per consigliarti caldamente di iscriverti a questo indirizzo perché ti aiuta a relazionarti col pubblico a 360 gradi. Oggi come oggi abbiamo bisogno di persone che sappiano comunicare al meglio, semplificare il messaggio e quindi condividere contenuti di valore. L'Insubria è la botte piccola dal vino buono che ti può insegnare proprio questo. Stage, laboratori, seminari, ma anche dei bandi che possono in qualche modo aiutarti con il tuo percorso di crescita all'interno dell'Ateneo. A me non mi resta che salutarti, augurarti il meglio e ricordati che anche da lontano puoi costruire e progettare il tuo futuro. Ciao!